Altri due nuovi autobus a disposizione del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano a Matera. I nuovi arrivi, ciascuno con 95 posti di cui 30 seduti, sono stati presentati sul piazzale antistante il municipio da Enzo Magistà, direttore della Miccolis, dal sindaco Salvatore Adduce e dall'assessore comunale alla mobilità Sergio Cappella. Sono stati acquistati interamente dall'azienda e si aggiungono agli altri due presentati otto mesi fa per un investimento complessivo di un milione di euro. L'azienda ha annunciato di essersi attivata per effettuare altri investimenti utilizzando fondi statali messi a disposizione dalle regioni per acquistare mezzi con una lunghezza di 7 metri e mezzo per rinnovare e migliorare l'efficienza di una flotta che gestisce linee per complessivi 1.400.000 km l'anno. Ma la presentazione dei nuovi autobus è stata anche l'occasione per annunciare alcune novità in arrivo nell'ambito del servizio di mobilità urbana nella città dei Sassi. Entro un mese infatti verranno attivate 10 paline intelligenti dotate anche di telecamera di sicurezza per l'informazione sulle linee. Una di queste da collocare in piazza Matteotti servirà all'amministrazione comunale per diffondere informazioni di pubblica utilità. Infine si sta lavorando anche per ristrutturare le tariffe in modo da incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico soprattutto fra i giovani e gli studenti.